Ma forse... Ah no scusa ora comunque volete Ma possono fare lo spawn kill? No vero? Ovvio che possono Si, si Qualcosa come un'altra No perchè in certi tornei nero ha vietato come... Si, non è attivo Si, non tornero Comunque, ehm... Alex stai laggando? No Ah ok, no perchè te lo avevo visto tirando scherzino Raga ora basta Guardami la lag Apro la parete raga Uh, che cazzo? No, mi sta laggando Tutto andato indietro E iniziamo bene Vincio? Parco dio però eh Mi pigli per il culo No ci ha fatto fuori tutto Si, quasi la prima Dai ma mi ha fatto esplodere un C4 Mi ha esploso lo scudo Ma veramente Mi ha lasciato con 7 di vita ed è esploso lo scudo Che caro Ma non ti amo neanche Ah no C'è Diego Dai era a sinistra Ok l'unico pericoloso del loro infatti è quello Odio spero perchè non ti dai punti Era lì eh Attento Fate il giro dalle altre scale No va bene Vabbè Non muore E' sopra Non mi viene preso quello sulle scale Eh si Non muore Ma come ha fatto? Vedete solo i piedi Oh carino Molto male Vabbè 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 Ho già più violato di colpi prima quello Vabbè Ho già capito che questa partita farà tutto quello lì Eh sì Probabile Eh questo qui è forte Era nei knock gaming è uscito perchè era bambino L'hanno buttato fuori Hanno fatto il bene Hanno fatto il bene Sì ma è davvero forte E' una pippa Vedete La pipa Non mi sembra Ma Alex se mi impegno riesco a farlo quello che si sa fare Vedete che se mi impegno riesco a fare quello che so a fare Ci vuole un mio utero E fai quello che devi fare 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 Non mi devi impegnare Mettete un rocondoc Qualcosa Vedete un rocondoc Si ti vuole di più qualcosa Assolutamente no Ok Ma che Sì, tu adesso basta, zitto, concentrati sulla partita, ti ricordi che è una cv questa? Non so No, era amichevole Sì, è una cv Vabbè, ma noi la prendiamo più seriamente Questi qua non sono scarti, ricordo adesso Invece allora invece non l'hanno preso seriamente Che che hanno erato Noi non ci hanno fatto quella di tre come tre qualsioni Perché siete coglioni, me lo dico subito Che è rettello Aspetta Avete visto quello che gli ho fatto, quello lì con la pistola? Gli ho fatto quella roba Vabbè, cosa vuol dire lì è perché aveva un sputo di vita, l'hai ucciso, non dica adesso, è crack il lato Sputo di vita Vabbè Gli ho sparato io, gli hai sparato te, Yocan Noi, gli ho tirato due raffiche col... Un basso, che chiamo Abbiamo un drone in casa, raga Black Bob Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè 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 Ma ho aperto il busco Metti non rischiarla, Metti non rischiarla Metti dove cazzo ti pare, bassi che non me la rischi Mattia, ti avevo detto però che non fai libero col Capca Ho capito, ero lì chiuso, se uscivo ero morto Zitti, zitti, zitti Vedi che mi ha ucciso, eh Ci hanno annato Se non lanciamo le scale, penso Ah, Blackbuck quello lì, eh C'è uno alle porte Ti è buttato uno Grandi Io sono in mezzo al fumello Bella, White E' dietro, White, eh No, Blackbuck, Blackbuck, Blackbuck delle scale 10 secondi e via Senti che stanno piazzando Un'escesa a me Sta prontando, sta prontando Dai Vabbè, non muore Vai Bello, bello Non ti baggerate, scusate Vabbè, sì Nooo Ok Vabbè, era finito il round Vabbè, tanto se qua c'erano i bambini del cazzo, quindi Fancula Gli ucciderei la mamma Aggressiva Cazzo Metti i bambini, zappo Tanto sotto a noi No, serve Thermite, serve Thermite Allora metto io, metto io Thermite Maxi Maxi, lo sai che il Thermite è importante, Dio caro Lo sai che se ci muori, sembra nella merda fino al collo? Vabbè Ragazzi, per la live ho scritto ANM BCC No, potevo prendere chiuso, era meglio forse Hai capitato Alex, ho scritto BCC Ho scritto ANM BCC Eh, BCC BCC Sono sotto, forse Eh, Napo, ma si vede? Mi raccomando Napo Tende ad andare a metà Bah, ehm, andare a metà Sì, allora mi hanno rispettato, mi hanno rispettato Ehm Ma come ha fatto? Mi ha preso il drone da attraverso il muro 10 secondi all'inserimento 10 spoint kill Ah ok, ormai deve essere una spazzetta Sì, che sarò 5 secondi all'inserimento Dove fa quello? Sì Vega Non so se fanno spunti, però dico questo è di potenza, comunque Che sono fatto la telecamera? Già È appena iniziata la partita, stanno già meno 20 secondi, che cazzo? Madonna mia Il cazzo è? Davvero, ma parte da... parte da due secondi... due minuti e 45, no? Ci abbiamo perso 10 secondi all'inserimento È vero È vero, è vero È impossibile No, no Non è possibile Il più possibile I minuti sono quelli Vieni, vieni pure tu, Maxi Arrivo Sei qui sotto, giusto? Sì, sei qui sotto Arrivo Entra, dai, entra, non c'è nessuno Entra e vai a plantare a sinistra Sei te col defilter Me lo stanzino Ah, ok Sì, sì, lo so Maxio Maxi, dacci un occhio, però, eh G4 Maxi, ti ho detto, dacci un occhio, però Porca madonna, Maxi Mi fa insieme Da sotto il C4? No, da sopra Non so Quello lì com'è Perché ti ho fatto a non prendere un hit Diffuser Ti sto comprendo io dalla finestra Grazie Vai Ti sto qui Ok, Black sopra Vai Ho già ucciso un tizio da lì, quindi Sam Regà, ma quanto è lungo sto plant 7 secondi Oh, stop Vattene, vattene, vattene 7 secondi il cazzo Vai, 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 cazzo Minchia, se l'ho mancato Bravo, Black, cazzo Grande sì, grande sì Bravo, cazzo Dai, raga, un attimo, ci svegliamo Dai, cazzo Dai, che dobbiamo vincere Dai Ci mettiamo... Predettori Stanno scrivendo che è scarso che è Madness Lol Davvero? Sì, oh, Eddie le foro sta scrivendo Madness, alle 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 Chi è Napo? Sì, sì, sì Dragon, Black, Napo Come cazzo lo chiama? Capo clan White Non se... È lui Dragon, Black, Napo Non ho capito che è successo Madness, facciamo il giapetto del cittuario Sennò sentiamo il giapetto del cittuario Sennò sentiamo il giapetto del cittuario Vabbè, raga, io non mi piace sentirlo Vi siete zitti Stanno parlando di cosa serio Quello che lo piazza sotto la finestra Vabbò Vi sa del zitti che ha detto? Che ha detto? Napo Io non sono Valkyrie Napo Da poi gli unito le frasi Poi non le finisce Ma tu ti ricordi quella roba del c4? Sì, dai, farla Qual è la roba del c4? Allora Quello che ho piazzato sotto la finestra E qualcuno deve vedere quando Vanno a piazzare Io ho piaciuto pure Ho piaciuto pure una carica di smoke Nell'angolino dell'armadio C'è il drone di Twitch che sta facendo un po' di casino Ah ah Io sono nella posizione del merda Gli elicotteri che passi Stanno tirando a caso quattro verso la porta Cerchendo di prendermi Gli hanno durnato e poi cerchendo di prendermi C'è c4 sotto, vero? Sì c'è Sì c'è Ah, sotto quella finestra Eh ma io non li lascio tutta Eh ci sto guardando io Ah ok, stanno entrando su B No, su A in realtà Anche su A, su A Eh esce che ha sparato il dardo Occhio qua Occhio qua white White Occhio la porta Alla tua sinistra E' entrato G4 C4 Cos'è entrato? Ma co... Co... Cov'è entrata? Ma s'conno! Viene che pallo No, ma s'è Silenzio, silenzio Twitch No, no Non passate Da dove Twitch A sinistra Eh eh, sulla bomba di Apple Sulla bomba Ma sinistra È dentro la bomba Dove ci sono... Sì è dentro la bomba Dove ci sono i letti Sulla sinistra Non c'è la telecamera, dite, ma non ha? Ma non è dentro Ma non è dentro, raga Ragazzi, perché devi fare queste informazioni? E allora, è uscito, e allora... Guardate, guardate la telecamera, raga, guardate E' entrato, è entrato, capitau! E' pure Twitch! 3, 2, 3... Capitau fuori Bella, 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 bella Grandi, grandi Cazzo, fai Sapevo che si arriva con la bombetta Bella cazzo, white, bella cazzo, white Bella tu Scusa, ma non ho detto che non devi stigliare Passiamo la tesi, ma non ti vergogni Tra le 10,4 Togando di 4 Mi ha terminato il cazzo, un like, se... Eh, ti ricordo che possono ritornare giù e dare inutile i fios Non possono ritornare giù Ah, è vero Sì, nel torneo, nei tornei Non possono ritornare giù Metti vanna, Zaffo Viopera è capitato Allora, non mi metti più Lo sennò prendo monta Sennò monta No, ma... Si possono prendere i nuovi operatori, eh? Raga, che cazzo che tutti sti messaggi? Oesile, per Dio, basta, stiamo giocando Un amico, gli ho detto appunto che c'era... Eh... Ma dove li metti i messaggi, scusa? Sì... Sì, apre il menu rapido No, no, apre il menu rapido e lo vedo da lì Giorgio Ma non sono sotto Ah, ma dal menu rapido si vedono anche qui Ah, già hai visto che è giocata? Ah, già hai visto che ci sono messi sotto? Allora, che cazzo è giocata da una combà? Allora, chiuso, era forte l'analisi Eh, lo so, ma è stato forte l'analisi Ma vuoi ganchi gli alti? Sei BGG No, gioca, gioca Quella è Pulse Che se ne sei? Lo ho fatto io prima Lo ho fatto io prima Lo ho fatto io Ma non so, anche il pro mi vuole aspettare No, nabbo è nabbo Eh, vedi, partiamo da due cinque Sì, attenti, non passate da un cesso Ma di nuovo sopra Eh, un nuovo terneo Red dog Allora, white Tiro, ragazzi Cosa l'aprivo? Eh, chi che ha colpito, white? Eh? Che che ha colpito qua il pieno di sangue? Oh, mi devi essere zitti Eh, che c'è con lì? White, spara al muro! White, spara al muro! Qua al muro è ferita, è ferita, è ferita è ferito uno C'è più rischio dove sono io L'ho ferito Sì, a caso Ma veramente C'è pure caveira, c'è pure caveira C'è pure caveira Stai a me in te la conferenza 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 Ma la spotti magari Stai a me in te la sto spottando Stai a me in te la sto spottando È andata giù, mi sa, eh O su non lo so Giù, 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 giù Ti risale da qua, ti risale Ti risale dalle scadine piccole Allora, copriami tu Via dell'esplosione Qua è libero Cosa dobbiamo fare? Io sto dronando No, ma dico quello lì è crashato Cioè, continuiamo Nooo Caveira, da dove? Dov'è scritto? Cazzo Lo cittadino, lo cittadino Ma se mi sto dronando Come cazzo faccio? Ma se mi sei passata davanti Sì Ti stavo trovando io E poi vado a vedere live Valtire sopra E va bene, ok Gli voglio mettere un po' di pressione ma non lagghi un tempo Questa qua mi sa che va male A meno che non ci arriva una botta di bulli, io sto laggando come un porco Lagghi sempre No, è vero, sta laggando tantissimo Che c'è giù? Fai la telecamera a mezzo Spara in prefet dietro il muro Lato Due atterrati, due atterrati C'è nessuno uno No, non moriva Destra, destra 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 No, ma perché Perché hai pensato a quello morto? Perché hai pensato a quello morto? Cosa te ne frega Raga, se non laggava era vinto, che so Perché potevo uccidere anche dal tiro Ci ho messo quattro colpi a uccidere questo No, è già fatto Ha pensato a fare le kill invece di kill Vabbè, ci sta, ci sta Aspetta È che, hai visto? Ho sparato quattro colpi di pompa da un metro di distanza a più Vabbè, dai Rieniamo sotto Mi raccomando però, White, quando ti dico le cose, falle Ma tu mi sei passato davanti e hai detto coprimi, non sapevo che tu... Non so, io ero ancora fuori, io quando ti sei interrogato, sto mettendo in quel momento, io ero fuori Ah, tu mi sei passato davanti, dalla live mi sei passato davanti Io ero Ash Eh, Ash mi sei passato davanti Ti è passato davanti capitau Ah, Alex mi sei passato davanti tu Fidati Non c'è raga, non riesco a giocare Voi vartelo vedere Alex, non sto scherzando, io sono serio Mi sei passato davanti tu Sì, ok, ma... quando ho rubito, stavamo già salendo le scaline Io ero in sala conferenze Io pensavo che tu venisse a via No, tu stavi entrando Tu stavi entrando in sala conferenze e stavo salendo su Ho distrutto quella roba e quello lì è salito con... Aspetta, aspetta, aspetta Vabbè, in mezzo, dimmi quando hai fatto Lascia aperto lì, ci penso poi io Quella la vedo, no, quello lì delle camere No, ma che è vero, parte da 2 minuti e 50, Raul Questo so Un po' falso Non dovremmo uscire, dico, a questo Perché? Se non escono loro, sono simili loro, appunto L'ho a fuoco di duty Voi cerchi brutti da me Voi cerchi brutti da me Non ci passa mai, vabbè Raga, qua dovete... Eh, io ci ho sbricato ci fa Ferma, dove ti serve, levati, white Vai, vabbè, entrano da sopra, dov'è? Ma tu sei scemo No, tu sei scemo, Alex Dalle scalette della torre Merda Raga, c'è... Se tu sei smoke No, c'è smoke, c'è la bomba di smoke Che cazzo Ma se sono, ragazzi C'è blackboard che... Perché deve le cose... Eh, le posti, non mi dite le cose false Di un cane Porca puttana Allora Non dite che entrano tutti da... Cosa, però Da... Grotti, quando non è vero Io ho detto pushano male da me No, una dei elementi da dietro Se veramente riusciamo a perdere quattro controlli Ok Eh, ci sta arrivando Eh, ti ricoprivi però L'hai preso? Madonna C'è una squadra di vita eh Vabbè Vabbè Salita la drop-suff Vabbè 3 di 3 Che bello Guarda che bello Guarda che bello Guarda che bello Dove si mettono? Sotto? Dove lo metto? Comunque io veramente dai Stai giocando malissimo White pensa per te Io ho giocato male questo round Si ok, però ognuno parli di se stesso E' inutile parlare mali Stai giocando mali Anzi sai che ti dico, sta con le cruffe Demolarizzi solo la squadra Senta che stai demolarizzando la squadra? Tutti stai demolarizzando la squadra? Tutti stai demolarizzando la squadra Tutti stai demolarizzando male Io ho detto soltanto che dovete dimmi dove sono le persone Le cose vere e non dire Eh ma sono tutti da me Tutti vuoi dire tutti In italiano da me So come So come Enfatizzarla la squadra Quindi tranquillo Basta che appena facciamo qualche kill Basta che appena facciamo qualche kill Non sa strillare e... Ci pesiamo Ma vuol il bastardo Poi da dove cazzo c'è? Da qua E' richiuso Alex Dronami Sare conferenze Mi sa che t'ha mutato Ivana dovrebbe venire qui a sonderlo a bot Come ha mutato un arricchione Nooo White Che cazzo? Ora fallo Eh stanzino Che cazzo? Eh stanzino Che cazzo c'è Facendo? Aspetti Giorgio Ma veramente Ma come cazzo? Dov'è? Era sotto Angolo impossibile Dronate Cazzo Avete tre drone Non lo so Fate qualcosa Non ci credo Il turno è da sinistra Ecco Duff ti copre da sinistra Ci vediamo Ci vediamo No Ci vediamo Ci vediamo No Non andare Chiudilo 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 Non andare Non lì Che cazzo non andare Che cazzo non andare Se non vado Ma è andata bene Ma qua se mi è andata bene Non ho sfuto di vita Gli ho sparato quando stava A parte che non dicevo Ti dicevo Blackbird di non andare Però spettacità Eh è ovvio Ma io ero dietro Io ero già pronto lì Allora Ehm Eri facciamo sotto Non state bene Vabbè è capito che con Valkyrie Non mi è andata bene Non mi piglio Oh Ecco Doc Ecco Doc Rook Rook Va bene Non so che cazzo prendere Ah già ci sei? Vai Un minuto giusto perché ci serve Ah poi entri tu al posto di qualcun altro Come facciamo? Ah se vuoi che te esco io No anzi sto qua lo metto dopo Tanto non sto facendo comunque No stasera poi io volevo giocare Stasera la seconda squadra Cioè la mia Però sto sperando il fatto che non può Beh Tanto più o meno siamo noi la seconda squadra Chi c'è della prima? Nessuno Siamo Siamo Ehm Qua chi è che manca l'ultima roba distruggila chi ha un c4 da buttare o cosa? c'ho un sto cazzo di buco è un best esattato da dietro da me vai ho un buco seriamente potevi passare 20 volte silencio aspetta fortifico il muro cazzo qua ci vorrebbero andare a fare lander guarda che stanno giocando a online 4 la cosa è un po' triste stanno arrivando dal tunnel dal tunnel arrivano ho visto i due blackbeard e ivana dal tunnel ok sono in due perfetto questo qua nel caso distruggiamo il mutuo di me cazzo cazzo dentro 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 la bomba no se lo facevo blackbeard blackbeard fredd 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 e e v vabbè dai cv che gioco ma no vuoi giochiamo noi magari magari la terza se per evitare di perdere entrate voi malachia malachia texano dice bravo quello con frost ecco grazie grazie liga un altro mio amico amico di oasis poi si può più lasciare il posto aggiornato l'amico l'amico posto ma con il periodo di squadra meno che mi smonti e ragazzi buongiorno voglio giocare e ti lascio il posto napo vuoi venire al posto di massi alex chiedi chiedegli se il suo lavoro regalo facciamo così giochiamoci intanto questa qui normale tra di noi quelli che abbiamo giocato poi se magari la questa qui la perdiamo la terza la giocano giorgio e napo così è più difficile che perdiamo la terza possiamo giocare da loro anche così le prendi napo ci dici dove sono napo l'hai visto quella roba che gli ho fatto a quelli no no guardo la parola perché sono andato oh esile scrive quello che io saprò se è un codaro esatto e poi ci metteci da ripartire perché white ha cominciato ad urlare non lo so no gli altri hanno un 2001 ai iron fenix e ma anche io sono 2000 erano 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 mi chiamare black dragon per farlo sono il tuo capo ecco ciò lo erano è ma giusto non sta parlando infatti erano è erano scrive tipo mad cani puzzano di hour fare dei cambi si si dai maxi dai maxi ah no alex no perchè host maxi esci tanto 2 vanno via hanno detto mad maxi vanno via scritto posti ma veramente tanto non mangio niani no io non devo andare via ma ti lascio il posto no qualcuno deve andarcene invitatemi mamma mad di te amici quanti cazzo scrivono dove mad fa i full team come prima mad sei il mio youtuber preferito che anche baia non mente ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma da loro arriva anche l'ultimo assolutamente mi sta arrivando uno ma per quello che avete cioè io non c'ho ancora giocato ma sono bravi bravini o cosa bgc forex bgc forex all'inizio all'inizio c'hanno praticamente devastato cioè almeno a meno a meno a meno perchè io quando gioco cibo sono in serio quando gioco classificato non mi piace se non per me li adoro la spegna del piante tennel arabe maxii senti parla per te dai cioè schifo si l'ultima altra situazione st l'inizio eh basta vedere sb dc mette in seconda superiore ea vent'anni ma che cazzo ma vieni a scuola con me anche la? si sto giocando giorgio si perchè dobbiamo fare dei cambi già da prima quindi nemmeno già d'accordo lol ma che cosa? ma nemmeno posi qua mo non mi giochi come ho giocato io no facciamo accadar il nostro corazzano ho giocato adesso qua c'è manca lui non manca mai no black no per favore levacelo per favore metti di buona a gioco a tutti quanti cercherò di imitarti non lo so boh l'inimitabile giorgio non si può imitare non si imita ragazzi prendi come max è quasi impossibile da imitare nemmeno christy mike ce la fa combacu è il trio di francavilla chris un salutone dalla live mamma mia giù in no ma c'è l'inviere che sta bene pochino strato sono sotto di sicuro si sono sotto sicuro ho copiato le stesse impostazioni del terneo reddome 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 ci sono che ci sono non che allora sicuro ricordo così non so con can solamente bcc forex merita una guarda in più io adesso trovo sotto pulso adesso non ci dici più di via te lo dici la chi sempre fa spawn kill pulso in giro se e dove va? è in cucina pulso napo mi raccomando io ho fatto 026 fai di meglio è tornato sotto pulso napo se fai una fila è adatta raga cucina libera però appunto c4 a mano pensi 0 2 quanto? 6 ah ok non credo di poter fare di peggio 08 dico 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 garage è libero ah oggi ho mal di testa questa è una grande scusa no davvero vieni a farle ruota del banavan sta arrivando comincia da qui comunque qualcuno ha drannato sopra ti vediamo dall'altra parte io li ho visti scendere tutti fermo 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 voglio fare una pazia voglio fare una pazia voglio fare una pazia voglio fare una pazia non è morta va bene se volete drannato avete visto c'è qualcuno mezzo non lo so mezzo vieni qua cos'è? NO 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 HA HABADO però è morta qui vero subito la sfida di qua eh no no e no no devo fare tico un bug stranissimo era un bug volevo provare uno spot però non so guarda quanto posso funzionare posto ho entrato al tunnel garage la storia da fuori da fuori copri anzi i droni va bene sono dietro al muro e mi ha preso va bene non ho più droni non è più droni lo usati io tutti e due potete farvi un po' di bordello così c'è pure il jager no no dai max si è già superato qualcuno può andare può dronare qui sotto i droni mezzo drona grande grande non 8 secondi manca solo uno e esoneremo ma solo uno ma sono preso un pietro come un paese no guarda 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 buon quando l'ho preso legato regalo prese rio ma c'è un po' che vuole pietre giovane con il giorno del giorno tornava bene è entrato dentro con la pistola bairo forza per me non si prevede se una cosa in pesca un po ammessa cosa faccio guai c'è una vita ragazza di un mondo c'è un mio senso no a cancello in cibo, poi classificato si vedono i risultati veri ma bo sto qua si sta intossicando, parla più bene ah io non ho parlato di vita botle, uno come a farire le botle, dai io ti prego però, non fa cosi dai madonna come? c'hai il cancro cos'è che c'hai? no tu ce l'hai veramente c'è pure macchina vado di sopra coprire con pulso o di sotto? sopra fai un buco qua no no è white dai vieni sopra vengo sopra amico non hai fatto la botte alla bar cucina oddio voglio fare il nuovo sponchino che ho visto la serenity fermi tutte le cose eh niente non ce la faccio più ma che ti stai facendo? eh farò un buco lì e eh non me l'hai fatto il buco comunque da sopra sì te lo faccio ho preso in testa l'ho preso in testa tantissimo guardatela live dicevi quanto l'ho preso in testa dai oh seriamente quella era la testa dai grazie stai davanti giusto la botte alla vege Cosa vuoi dire che stai entrando al garage? Che vuoi? Se non c'è andati in due oltre 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 C'è tacher lì, stai entrando al garage Aiut, me l'aspettavo Dov'è? Sopra sopra, mi ha detto di tipo trovo Oddio come l'ho preso Illegale Si white si White is on fire Garage BOOM E bar bar tacher c'è E' via così Only dropshies man Io a caso l'ho preso, a casissimo, ho supposto possedire l'ho preso Vabbè Vabbè Ragazzi ma che bella kill ti sei fatto Oddio ma che legale Si sa, si sa Chi sta subendo la live, mi può consigliare se è meglio il mirino a BOOM Oh eh si, le non l'hai preso ci dice Non l'ho preso? Eh allora vattene a rivedere Perché lì sto costando di finire Ma non l'ho preso E poi dire 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 D'ora di questo Ma non l'ho preso D'ora Vediamo ancora Balistico Anche quella detta Balistico Anche quella detta l'amore lato che ho lo colli e le risposte balistica l'accento e' un'opera provo per i punti che si riempa e la cosa che c'è non c'è il cancro maxi per te come un battuto insurmontabile sormontabile Non sono morta Il bello è che non era una battuta Da là giù E dove? Da là Dronate E che gli vuoi dire? Dici Ecco Cosa che sei con l'alive quindi non andate bene Uuuu Wild banger Grazie invitate ai vostri unitari e attaccate ai comici device Per Luigi spacca mi ricordo tipo l'altro spacca che non mi ricordo come cazzo si chiama Quello che spacca Quello che spacca Dove era sponchire scusate ragazzi? Era la finestra del bar La classica finestra Ma era a vera per cazzo Non lo so non l'ho vista Ho visto la finestra d'ombra Chi mi può dronare sopra velocemente? Chi c'ho opra? Mh mh Io no Può che c'è un distante Non sopra di Twitch Barre libero? Barre dovrebbe E voi? Che si Vado giù Twitch Allora abbiamo la bomba A E C'è solo smoke Per il resto è scoperta Ma si può provare a farla pazzia raga Questa è nominata tutta la barra principale Qua io non lo so È bello come scrivano White sembra quasi che gioca su pc da come si muove Occhio Matti Occhio Mando il drone Così ti dico dove è È dietro È dietro il bancone Sta arrivando Matti Sta arrivando Ti vuole lanciare smoke Te lo sto ritenendo io Te lo sto ritenendo io Vai 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 Angelo mio vai Da dove vado? C'è la smoke Aspetta Mi uso Twitch Sono un po' chiuso È ancora io Ti vuole lanciare la smoke Attento eh Nella racer Uuuu Avevo un chiuso Eh vabbè Ah si Sono uguali praticamente Cosa? Ah Gio guardi la qui Guardate ragazzi Guardate chi è Blackboard Occhio Valchino il drone Ci guarda due No vabbè Quanto fa schifo Ah già L'avete vista la kill Ah già l'avete vista la kill Nel fumo La kill nel fumo Non l'hai vista Aspetta Guardatela Madonna che roba Impressionante Sfattacca Guarda 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 Ah Ah Sveglia che stanno a scrivere Che cosa stanno a fa Quasi Non è vero No ragazzi Barbagazzino Sicuri Ma perché Che cazzo cambia Che cazzo cambia Con gli altri Cioè è uguale Cioè è uguale Cioè è sì Della Giotto Quanto costa Ehm Addirittura Vabbè ma anche la scafta Non lo può fare No Scusate Sì Puoi cambiare Quando io Ah Maxi dall'acqua in posto Vorrei che c'è la mamma morta Ma vuoi che a te non ti serve Però Eh vavero Dai non vedo l'ora Allora Sai che c'è la mamma morta Maxi Eh 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 Ragazzi ragazzi un c4 Una bombetta Qualcosa Ce l'ho 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 Eh 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 Sì Bravo Io vi rompo il cazzo d'acqua faccio un po' l'esterno random L'esterno random è un po' il caveira Spie spie Oh eh si le sei obeso Ah tu madre Che hai scelto di voi scusate di merda Ah la gassone di legno scusando Ecco Mamete che è una mamma morta La gassone ha portato sputtato È facile parlare quando vinci Silenzio Non sto mangiando C'è il c4 dalla porta Corricchione vai Guardi la chita non gioco Corricchione porta Ragazzi mi è trovato in 2 C'è il c4 entrata eh No Ce l'ho preso quello che io direi da dietro angelo Asher No era capitato Allora Sono fottuto Il c4 dalla porta principale Non ti copro più angelo mio Non posso saltare Piccola imposizione Ragazzi mi abbia scoperta Ragazzi mi abbia scoperta Ragazzi mi è scoperta Ragazzi mi è scoperta Ragazzi mi è scoperta da sopra cazzo la botola è aperta attento non l'avete fatto la botola? ok ah mi one shotato sto te la finestra non ha vita non ha vita da lì un attimo un attimo hanno spaccato la telecamera in bar aiutate MED su B se no non ce la fa raga la bomba ce l'ho io la bomba ce l'ho io tranquillo ah ce l'hai tu buono buono non l'ho detto prima su una mano white noi dovremmo metterci la rimettica tutti uguali esce al terzo piano di sopra lo so lo so morta bravo lo sento vicino a me l'ultimo bella per lui è lì da te iban MED da lui è da lui è da MED è da MED si si è uscita lì la fai mi sa più a sinistra eh vabbè non rischiatevela dai maquelo 15 secondi e non push up guarda tutto siamo morati tutti quanti di colpa fuori a vinto è qui la bomba è qui la bomba è qui scusa 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 non puoi morire non puoi morire no manca ultimo si ottimo round ho detto guarda con le gambe storte vinca a cavallo vado vado a cavallo vado a cavallo tu porco grisso oh porcone come ti permetti ma che cazzo ma non mi sembra ma non mi sembra guarda ma mi sembra che mi sembra come si commenta un tanto erano ma poi posso shishy certo la parola la parola la parola la parola la parola non sapevo come e lo io che ce n'ho un 21 stai giocando su un 33 10 oh gesù cristo ragazzi mi imbarla maxi la crede così più piccolo meglio è un affatto porco dio e gli affari di suo affatto come ti permetti l'ambone per favore scrinnata la sua identità se vinciamo tutte le mappe 50 51 il fatto è che una l'abbiamo già vinta la scoperta fresca fresca per adesso adesso vediamo come procede al nostro amico giusto io non chiamo di piazzare subito l'aiuto di pliss questa è perché a questa per tebli no a subì e libera via libera ragazzi ho preso modelli arriva arriva lasciamo ragazzi ha un solo il cuore chiesto che morirò vai e con la domanda con il mio sogno non c'è nessuno primi vedere se non ti alzare che sono ti sparo in testa ok ma io resto proprio quattro amore c4 8 cazzo attenti alla bomba hanno interrogato attenti che ti dimenticare vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù fucce la pompa fucce la pompa bravo bravo bravi ragazzi veramente ci ha lasciato la porta scoperta la bomba scoperta io ho visto sparare i proiettili e ricaricare la questo è per te l'abbiamo fatto per te lo chiameremo il volo divino lol ma che rovina pane degli angeli no vabbè ragazzi più di commenti vanno schiattare andiamo a vincerti il gioco dobbiamo parlare proprio un po' come bambini di merda una cosa però nico pru non so chi sia stato di voi che ha detto apriamo il culo eh ma che mano ah ah se n'è andato è lo scemo di guerra che è un predator eh bravi bravi eh bravi bravi eh bravi bravi avete fatto un sacco il culo bravi 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 sei fortissimi siete fortissimi non è vero ritirare più per Luigi ci a Pierluigi a Pierluigi ho detto ritirati ah White non puoi fare queste cose sono iniziato il gioco lì ho fatto chiuscite i su cosa mai ha detto che aprimogli il culo ai bambini allora ho fatto hai quel coglioni di Forex che ora sei andato eh bravi bravi allora tutti quando mi faccio ripartire io a fare tiri ritiri No dai a parte gli scherzi Hai giocato solamente una partita Ma complimenti BGC E ringraziamo tutti quelli che corrono alla live Cioè Gesù Cristo e altra poca gente Poca ma brutta Poca e brutta gente BGC peggio degli aborti LOL Vabbè Dai raga Salutiamo Salutiamo tutti quanti Nella bellissima live Adesso andiamo a giocare classificate Che io lì non so giocare Bello